Operatività ordinaria con un mercato che al netto delle necessità sarà fatto da entrate solo in relazione alle uscite. Praticamente quasi a saldo zero. Il Teramo chiude il 2021 sul campo nella giornata di domani con l'ultimo allenamento dell'anno e sul fronte societario con l'incontro interlocutorio di questa mattina nel quale da parte del custode giudiziario è stata ribadita al momento la possibilità solo dell'ordinaria amministrazione con possibilità ad inizio 2022 di un'analisi ulteriore delle carte e dei documenti in possesso per cercare di valutare in modo più approfondito quanto e cosa il diavolo potrà fare. Dunque la fumata è decisamente grigia, tutto rinviato. Questa è la decisione dell'amministratore giudiziario Claudia Capuano che ha ricevuto l'amministratore delegato con delega la presidenza Massimo Chierchi e Franco Iachini che detengono rispettivamente il 60% e il 40% delle quote sociali biancorosse. In dubbio che in un frangente come questo parlare di mercato di riparazione è assolutamente prematuro. Il travaso di forgione da Fiuggia a Teramo è un'operazione più di contenimento che di miglioramento. Il centrocampista a 29enne si sta allenando agli ordini di Federico Guidi e nei prossimi giorni sarà tesserato se ritenuto idoneo a dare una mano al tecnico toscano. Cosa potrà essere fatto invece per dare maggiore sostanza alla rosa è questione che si intreccia con logiche che non sono più solamente di tipo sportivo ma vanno a braccetto con gli sviluppi riguardanti l'operatività. Il Teramo ha una cassa limitata. L'obiettivo dell'incontro odierno era quello di chiudere il 2021 con la certezza di introiti che potessero dare maggiore stabilità alla ripresa dei lavori di gennaio. Non è stato così ma non è detto che non potrà essere nel prossimo futuro. Per il momento congelato tutto anche perché domani ultima sgambata prima del rompete le righe per Capodanno. Poi ad inizio gennaio le valutazioni saranno fatte anche su basi più certe di quelle di oggi aspettando sempre che la commissione acquisizioni partecipazioni societarie della Federcalcio si pronunci in maniera definitiva sul passaggio delle quote. Stallo naturale complici anche le feste ma il Teramo non può aspettare all'infinito e chissà magari Iachini nella conferenza di domani sull'avanzamento del PEF del Bonolis potrebbe dare ulteriori novità in merito. Grazie.